Porto turistico di Giulianova, eccoci qua, siamo in diretta nuovamente in vostra compagnia. Oggi è una giornata veramente speciale, perché al porto di Giulianova tra pochissimo si esibirà una band composta da artisti a dir poco eccezionali. Intanto mi riferisco al notissimo Fabrizio Bosso, grandissimo trombettista, a Javier Girotto al sax e poi tutta la band che conosceremo tra poco. Fabrizio, dunque siamo pronti? Siamo pronti, siamo prontissimi, siamo felicissimi di suonare questa sera Giulianova, abbiamo visto c'è già un pubblico numeroso e quindi vorrei intanto presentarvi gli altri musicisti. Abbiamo Nataglio, Luis Mangalavite, suona il pianoforte, le tastiere, canta e compone, Javier Girotto, come hai detto prima, sax, baritono, soprano, composizioni, Bruno Marcozzi alle percussioni, Luca Bulgarelli al basso e mister Lorenzo Tucci alla batteria. Abbiamo tre abruzzesi, Javier, cioè i genitori che vivono in Abruzzo pur essendo argentino, quindi insomma è una bella festa questa sera. Sì, è una grande festa direi non solo per Giulianova ma per tutto l'Abruzzo perché la vostra esibizione era veramente attesissima. Ma cosa ci dobbiamo aspettare da questo concerto? Quali sono i generi che affronterete? Perché so che sono molto vasti, poliedrici. Ecco, adesso facciamo parlare un po' il resto della band. Ok, andiamo dal grande girotto. Eccoci qua, un altro nome che è una garanzia per quanto riguarda la musica. Appunto, cosa ci presenterete? Quali generi musicali? Un po' i generi musicali che hanno ritmi dell'Argentina, un po' da Montorrio, Montorrio è Brasilia. No, Montorio, perché lui è da Montorio, quindi ho detto Montorrio. Ah, da Montorio a Montorio, ho capito. Va bene, è simpatico questo genere. Comunque abruzzese. E poi un po' di canzoni del Centro America, dell'Argentina e del Centro America, quindi un po' un repertorio vario che fa parte del Latin Jazz. Benissimo, dunque ci possiamo aspettare una serata travolgente perché davvero sono in tanti coloro che non vogliono assolutamente perdersi per questa serata, infatti sono arrivati numerosissimi. Noi siamo venuti qui con buonissima intenzione di far divertire tutti e soprattutto divertirci noi. Benissimo, questo ci fa molto piacere, una battuta al resto dei componenti. Perché ridevi quando si parlava di Montorio? No, perché ha fatto la battuta di Gianero, quindi mi ha fatto rire la battuta che ha fatto. Mi sembra di capire che voi siete un gruppo anche molto molto coeso, vi ritrovate insieme dopo tanti anni. Sì, è sempre una gioia immensa suonare con tutti gli amici, i colleghi, per me sono amici insomma, quindi è sempre una gioia. Ed è sempre quella poi la formula vincente per la buona riuscita di un'esibizione. Beh assolutamente, è un grande feeling tra i musicisti che sono sul palco come nel nostro caso, comunque una band di all star, sono musicisti di questo calibro e per me abruzzese, è un onore suonare in Abruzzo con un gruppo così bello per me. Perfetto, allora Fabrizio, siamo in diretta in radio, Radio R9, in tantissimi ci stanno ascoltando dalla tua voce, sebbene ormai la vostra partecipazione a questo evento è ben stata pubblicizzata, lo sanno davvero tutti perché non vogliono perdersi questo evento, ma possiamo approfittare per invitare tutti a venire chi mai avesse perso questo appuntamento. Se siete in zona, in macchina, correte, insomma così ascoltate il concerto dal vivo invece che in radio. Ciao! Perfetto, grazie, grazie a tutta la band Latin Mood che tra poco si esibirà su questo palco. Per adesso la nostra diretta si ferma ma torneremo tra poco perché ricordiamo che la serata su Radio R9 sarà spettacolare. Prima il concerto appunto degli artisti che abbiamo appena ascoltato e poi naturalmente comincia il vero Apery Street, quello di Francesco Marcellini, Franceschiello Eventi, qui dal porto di Giulianova, porto turistico. E naturalmente ci saranno i nostri DJ, ci sarà il nostro vocalist Nico Battistelli, insomma una serata strepitosa fino alle prime luci dell'alba e noi saremo naturalmente in vostra compagnia. A dopo!